Il gradito ritorno di stamattina, eccolo qua, il nostro polpettone all'ortolana, zucchine, veneziane e peperoni, fascite assieme alla provola, fanno di un polpettone, un'opera d'arte fantastica. I colori sono quelli giusti, siamo pronti per l'arista agli agrumi. Arancia, limone, lime, rosmarino, aglio e un'arista meravigliosa. Ecco gli ingredienti per l'arista agli agrumi. Di giornata non potevo non annoverare questa fantastica fracosta. Guardate qua, guardate l'amarezzatura, si vede ad occhio nudo la tenerezza della carne. Speciale. Siamo pronti per lo spicchio. Eccoci qua, tra il brasato rosso e giallo, il nostro polpettone classico di hamburger, il polpettone all'ortolana che vi ho presentato prima, la nostra costoletta di maiale. Attenzione, signori, suino toscano, bicolore, uno spettacolo. La fracosta che vi ho presentato prima, prosciutto di maiale impanati, la trippa, il fegato freschissimi come sempre. Un saluto ai detrattori, quelli che si appoggiano sui post per mettere commenti negativi. Signori, noi siamo qua per qualsiasi cosa. Buona giornata, a domani.